Continua la striscia positiva della Cavese, anche se contro un'ottima Aversa non riesce a conquistare il pocherissimo di vittorie. Papagni continua con gli esperimenti e schiera in prota dal primo minuto in luogo di Danna. Nella prima frazione il pressing degli uomini di Chianese mette in difficoltà Di Deo e compagni che non riescono a creare occasioni da gol. Sono proprio i padroni di casa a provarci al diciottesimo o condursi, la cui conclusione viene bloccata da Conti. Al trentasettesimo Giallo ci prova in acrobazia, il tiro debole viene bloccato senza problemi. Al trentanoesimo Laversa passa con Ciocia che dopo una lunga cavalcata sulla destra batte l'indeciso portiere bianco-blu. Al quarantatresimo la prima conclusione di Marca Cavese è Di Deo, il tiro potente però è fuori misura. Al quarantacinquesimo Conti vola a deviare un insidioso tiro di Franco dal limite dell'aria ed in pieno recupero ancora Di Deo sfiora il pareggio, sfiorando il sette con una conclusione dal limite dell'aria. Ad inizio ripresa Papagni corre ai ripari passando al 4-2-4 inserendo Barriale e Danna al posto di De Rosa e Sabatucci. I bianco-blu comunque non riescono ad incidere, solo al quarto d'ora le crimenano per un presunto tocco di mani in area di Guastamacchia, su conclusione di Improta. Due minuti dopo però arriva il pareggio. Di Deo rompe in area di rigore ed il suo cross basso trova Barriale ben posizionato sul secondo palo. La conclusione dell'attaccante viene respinta miracolosamente sulla linea da un difensore pallone che però finisce sul sinistro di Criniti che mette a segno il quarto gol in cinque partite. Al ventisettesimo il portiere Casertano vola per deviare un tiro di Danna. La partita a questo punto si spegne e l'unico brivido lo concede proprio Lombardo che costringe l'albitro a decretare una punizione in due in area al terzo minuto di recupero. Il tiro di Di Deo però viene respinto dalla barriera. Al termine della gara applausi per tutti ma la vittoria della frattese a palmi ha fatto ritornare gli aquilotti sulla terra.